. Roger Waters sarà in Italia ad aprile 2018, le info sui biglietti . Sono stati confermati i rumors che da qualche giorni circolavano negli ambienti musicali, ebbene sì, Roger Waters, storico bassista dei Pink Floyd, sarà in Italia ad aprile per quattro attesissimi concerti. Bologna e Milano le città scelte per i concerti. . Confermate già anche le date e le location scelte per gli eventi, Roger Waters suonerà al Mediolanum Forum di Assago, MI, il 17 e 18 aprile 2018 e all'Unipol Arena di Bologna il 21 e 24 aprile. . . Waters al momento è impegnato nelle tappe nordamericane del Lose to Tempour, per poi toccare l'Europa. Fino ad oggi, la tourne ha totalizzato quasi 200 mila spettatori, incassando oltre 25 milioni di dollari. . . Nel concerto a cui assisteremo anche in Italia, il musicista propone i brani tratti dal suo ultimo album, Is This Day Life Vere Alli Vant? uscito lo scorso 2 giugno, ma anche pezzi storici dei Pink Floyd, come Another Breaking The Wall, The Show Where Are, Breate, Monet, Comfortablinum. . 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